Che cosa tengo in tasca ogni giorno? Edizione giallo... ocra? Applausi per me! Iniziamo con degli accessori fondamentali ormai quando ci si muove in giro. Sto parlando del nostro telefono ma non vi preoccupate. Ho pensato anche all'S23 che comunque continua a piacermi un sacco con tutti i colori di questa dotazione. Funziona perfettamente, guardate il mio cinturino, guardate questo S23, guardate che bello che è il comodo pennino inserito all'interno. Dicevo, abbiamo a disposizione questa bellissima cover di Native Union. Punto di forza secondo me fondamentale è il fatto che è fatta di materiali riciclati, quindi questa cover non sta rubando risorse al pianeta, estraendole, ma semplicemente prendendo quelle che già ci sono e provando a creare qualcosa di bello. Questa texture la trovo veramente affascinante, mi piace tantissimo la scritta Paris, Native Union scritto sotto, lo sfaso per la telecamera, ma soprattutto è una cover MagSafe, quindi insomma possiamo veramente andare sul sicuro e utilizzare sempre quello che ci piace. MagSafe significa quindi avere anche tutta una serie di accessori e accessoristica. In questo caso l'ho preso nero, un po' da pazzi, visto che esiste anche in questo bellissimo color senape, però mi piaceva l'idea di utilizzarlo così, diciamo con uno stacco cromatico per quanto riguarda il portafoglio sul retro. Dovete sapere che ho praticamente smesso di possedere un portafoglio normale, qui dentro io ci tengo 100% delle carte che significa American Express Platino, vi lascio l'affiliazione qui sotto, potete avere un sacco di vantaggi, un sacco di punti, non è comunque sponsorizzato. E la mia carta Buddy Bank, questa vi dà 30 euro, si è aprito un conto Buddy Bank, anche lei non è sponsorizzato ma vi lascio comunque il link qui sotto. E questo è il raffinato risultato finale, lo trovo veramente fantastico. Ma non finisce qui, Nativ Union infatti ha pensato a una serie di accessori per queste cover, si toglie la cover, si sgancia dall'apposito gancio questa piccola parte esterna, si infila all'interno della cover, si fa uscire dal buco di ricarica, si adagia l'iPhone all'interno, questo wallpaper è sempre il solito, lo trovate su ottagono.shop, anche qui sotto, sotto la barra iscriviti, li trovate tutti esposti. A questo punto vi ritrovate con una cover e un comodo gancetto, comodo gancetto che può essere raggiunto dal moschettone e a questo punto avete un iPhone che potete comodamente appendere al collo, regolarlo di conseguenza e averlo sempre a portata di mano. Questa cosa in particolare l'ho visto fare a moltissime ragazze, evidentemente è molto comoda. Se però dobbiamo muoverci nel mondo non possiamo certamente prescindere da un contenitore che contenga tutti i nostri gadget tecnologici e non. In questo caso ancora una volta è nato l'ugno, ragazzi sono innamorato di questo brand perché primo hanno fatto delle robe tutte matchate, secondo fanno dei prodotti di altissima qualità. Di nuovo una scrittina posizionata sul fianco che gli dà quel tocco raffinato che mi piace tanto, che avete visto essere presente anche appunto sia nella cover che nel portafoglio, ma soprattutto questa bellissima busta ha una possibilità di accesso da sopra per infilare tutti i nostri gadget tecnologici. All'interno anche lei è fatta solamente da materiali riciclati e ha una serie di taschine per organizzare al meglio la nostra tecnologia. E voi direte, quale tecnologia? Magi Magia Doremi, all'interno abbiamo innanzitutto un powerbank, un powerbank MagSafe di Anker, se non sbaglio, di Anker, molto appagante dal punto di vista estetico, opaco, con questo bellissimo grigio opaco che sta bene un po' con tutto, ma soprattutto visto che è un powerbank MagSafe basta rimuovere il portafoglio, metterlo in una comoda tasca, dopodiché schiaffare sul retro il nostro gigantesco powerbank. Come vedete rimane comodamente attaccato, è piuttosto capiente, quindi sì, vi portate a casa un certo spessore, però ragazzi questo qua vi ricarica, beh, 5000 mAh, non è tantissimo, riuscite probabilmente a farci una carica intera del nostro iPhone, vedete che appare il simulino di ricarica, ma c'ha una piccola chicca aggiuntiva, un kickstand qui sul fianco che vi permette di sfruttare il vostro telefono per guardare dei film, per seguire delle serie tv, per fare delle videochiamate, potete utilizzarlo anche in orizzontale, lo rende veramente comodo per esempio in aereo, quando viaggiate, quando vi muovete, chiuso il kickstand, sul retro avete per esempio una porta USB di tipo A che potete sfruttare per caricare dei device in uscita, quindi per esempio ci attaccate qui a un cavo e caricate il telefono, non so, della vostra ragazza. Sul fianco invece, qui, abbiamo una porta USB di tipo C che serve sia per caricare lui ad alta velocità, sia per caricare dispositivi di terze parti con USB di tipo C. Quando siete in giro, secondo me, fondamentale, compatto, sta in tasca, una bomba. Link qui sotto in descrizione. Ulteriore prodotto che esce da questa bustina è, ovviamente sto scherzando, un oggetto che ormai sta facendo veramente parte dei miei spostamenti negli ultimi tempi. Da quando ci ho messo le mani sopra, questo OP1 Field Edition è qualcosa di pazzesco. Si chiama Field, lo capite già dal nome, serve per muoversi sul campo, per andare in giro, per fare musica. Non sono un grande musicista, però mi diverto a creare, a comporre, a scrivere, a fare delle cose. A parte che a livello di design, con il MacBook, con tutti i dispositivi che vi porto all'interno di questo video, è qualcosa di pazzesco, ma soprattutto... Non costa poco, ma magari potrebbe cambiarvi la vita. E sapete che altro può cambiarvi la vita quando vi spostate in viaggio? Non soltanto lui per creare musica, ma anche, per esempio, una VPN per risparmiare. Infatti, non so se lo sapete, ma i siti web, adesso che si parla di prenotare le vacanze, cercano di fregarvi. I siti web di booking, i siti web delle auto a noleggio, degli hotel, ed è abbastanza fastidioso. Infatti, se voi, non so, prenotate una vacanza a Brooklyn e avete bisogno di noleggiare una macchina a Brooklyn, se la prenotate dall'Italia vi costa infinitamente di più. Il sito web sa che siete tra gli stranieri che stanno arrivando e vi pompa i prezzi. Grazie a una VPN, come quella di NordVPN, che con un click vi permette di geolocalizzarvi dove volete nel mondo, vi geolocalizzate a Brooklyn. Il sito web penserà che voi siate, appunto, a Brooklyn e a quel punto vi offrirà dei prezzi da local. Questo vale, come vi dicevo, per gli hotel, che è la cosa forse più fastidiosa, ma anche per i voli aerei. È un trucco che forse pochi sanno, ma che può veramente svoltarvi il prezzo finale di una vacanza. Per metterlo alla prova potete farlo, ovviamente, con NordVPN. È la VPN che utilizzo ormai qui sul canale per un milione di altri motivi, che sono la sicurezza in primis per proteggermi quando viaggio, per proteggermi anche quando sono a casa, per mettere un IP statico, insomma, posso fare veramente tantissime cose e nel corso di quest'anno le esploreremo. Questa, per i viaggi, secondo me è la più interessante. Qui sotto in descrizione vi invito a provarla, con il link che vi lascio, con il quale potete avere la miglior offerta disponibile al momento. Fatemi sapere che cosa ne pensate, anche perché supportate il canale. Torniamo a estrarre dalla bustina delle meraviglie un ulteriore oggetto che ci serve sempre per la fase di ricarica, sempre MagSafe, sempre di un brand che ormai amo alla follia. Andiamo a recuperare il nostro amico iPhone e guardate che cosa abbiamo tra le mani. Questo qui è un charger, sempre MagSafe, come vedete, si attacca nella parte posteriore, realizzato da Belkin. Dove sta la figata? Materiali di qualità, guardate che bello e che ben fatto che è questo cavo, lungo il giusto, USB-C dall'altra parte, ma soprattutto, ancora una volta, un piccolo kickstand posizionato nella parte posteriore. Io sto impazzendo per questa roba dei kickstand, perché quando vi muovete in giro, se siete, per esempio, in treno, se siete, ad esempio, in aereo, è veramente comodo non tenere in mano per due ore tutto il tempo il nostro telefono. Quindi, averlo qui, caricarlo mentre stiamo riproducendo il film, è una bomba, perché arrivate a destinazione che siete già carichi. Potete usare il cavo e connettervi al treno, potete usare il powerbank col suo kickstand e connettervi, appunto, al powerbank. Insomma, io voglio una soluzione con kickstand sempre presente. Torniamo nella magica bustina di Mary Poppins se tiriamo fuori un meraviglioso charger da muro, ma non è un normale charger da muro. Questo qua è quello che vi risolve tutta la vita. Infatti, è superpotente, è fatto con gli allumi di litio, allioni, non mi ricordo come si chiamano, insomma, questa nuova tecnologia che permette di ridurre le dimensioni dell'oggetto. Tra l'altro, notate il dettaglio, addirittura la porta USB-A, l'ultima a disposizione, ha un freggio giallo, che, insomma, nel setup funziona sempre, ma soprattutto tripla USB di tipo C con uscita a 100 W. Questo vuol dire che ci caricate tutti i MacBook presenti sul mercato alla massima potenza possibile, quindi questa roba è fantastica, e soprattutto avete la possibilità di caricare quattro dispositivi contemporaneamente. Io giro praticamente solo con lui, perché ti cambia la vita avere un device soltanto per la ricarica e non dover passare per 600 diversi charger attaccati in tante prese. Di nuovo dalla borsetta, tiriamo fuori questa piccola confezione, sempre di, in realtà, sempre un cavolo, di moffi. Bellissima la finitura esterna, con questo tessutino che funziona veramente bene, molto elegante, molto bella, che non rovina le cose. All'interno abbiamo un piccolo kit di cavi. Cavi corti, non sopporto i cavi lunghi in generale, perché poi non sapete dove farli finire. Un piccolo kit di cavi che si compone tra USB-A Lightning, USB-C USB-C e USB-C Lightning, quindi avete tutto quello che vi può servire per muovermi nel mondo. Potete sfruttarlo, come abbiamo detto, per andare a caricare un device Lightning a partire dall'uscita di tipo A e magari il vostro Samsung dall'uscita di tipo C di questo Power Bank che potete connettere degli SSD esterni al vostro computer perché sono cavi ad alta velocità. Insomma, è una vera figata da avere sempre dietro. Ultimo device dedicato alla ricarica che estraiamo dalla borsetta è questo simpatico charger per Apple Watch. USB-C sul fianco, lo possiamo inserire, per esempio, nel buco più alto del nostro caricatore da muro, come abbiamo visto. Super compatto, bello nel design, non serve girare con il lunghissimo cavo a disposizione del normale Apple Watch e a quel punto possiamo divertirci ad avere un piccolo supportino da comodino per caricare il nostro Apple Watch senza dover portare tante cose con noi. Come avete capito, ridurre, ridurre, ridurre per me è fondamentale. Cosa esce adesso dalla borsetta? Esce questa strepitosa, bellissima torcia di Otto. Beh, vi chiederete che cosa serve una torcia. Può servirvi in macchina come torcia di emergenza, può servirvi quando fate un'uscita al buio, insomma, è comunque un oggetto, secondo me, da possedere e da avere sempre nella propria dotazione. Questa l'ho scelta, come vedete, di Otto perché fanno dei design assolutamente strepitosi, corpo completamente realizzati in alluminio, addirittura piccolo dettaglio giallo sul retro, abbiamo visto che questo tema ritorna, ma soprattutto è un oggetto leggero, comodo, compatto, USB di tipo C nella parte posteriore che ci permette di ricaricarla, quindi anche qui non abbiamo bisogno di strafanti o batterie strane o charger proprietari, addirittura vi arriva in confezione con questo simpatico diffusore che potete montare nella parte anteriore e a questo punto, oltre ad essere una torcia, vi diventa una piccola lanterna. Qui c'è tanta luce, non lo capirete, ma la figata è che potete appenderla e vi diffonde la luce in un ambiente senza bisogno di accendere le luci per leggere, per muovervi in campeggio, è veramente figa. E poi, ovviamente, ha a disposizione il suo super fascio, un tasto che permette di dimmerare la luce a disposizione della torcia, addirittura avete la possibilità di strobozzizzarla oppure di metterla in modalità SOS che speriamo non vi serva mai. SSD con una forma molto particolare, lo vedete, questo qui è di Lassie, è probabilmente il brand migliore in assoluto per quanto riguarda gli SSD, 1050 megabit in lettura, quindi potete anche montarci i video in maniera assolutamente perfetta, soprattutto compatto, leggero, autodissipante per quanto riguarda il calore con questo suo corpo in alluminio e soprattutto incredibilmente resistente. Questa è la versione da 1TB, ma ci sono anche tanti altri tagli che vi linko qui sotto in descrizione. Uh, questo è un piccolo kit di scrittura che mi sento sinceramente di consigliarvi, è sempre bello prendere appunti, fare delle liste, scrivervi delle cose in maniera analogica, quindi senza per forza passare dal vostro iPad, per esempio. In questo caso abbiamo dei Fill Notes in colorazione nera, sono questi bellissimi libretti che avete già sicuramente anche visto qui sul canale, molto compatti, molto sottili e soprattutto appaganti dal punto di vista del design, ma soprattutto questa, che è una matita costosissima, non pensavo costasse così tanto quando l'ho comprata, devo dirvi la verità, di Parafernalia, è disegnata da Giulio Iacchietti, se non sbaglio, un designer di un certo pregio ed è una matita, un portamine, vedete quella lì, una mina all'interno, è fatta veramente bene in alluminio e ci potete, insomma, scrivere e disegnare quello che preferite. Abituatevi a tornare ogni tanto all'analogico. Ultimo, ma non per importanza, un paio di cuffie, ragazzi, perché bella la musica fatta sullo P1, ma bella la musica quando la ascoltiamo. Queste sono delle strepitose, l'avete già sicuramente visto sul canale, ma ve le consiglio sempre ogni volta, cuffie di Sony, sono l'ultima emanazione iperleggera, una cosa fuori di testa, quanto sono comode e confortevoli quando mi muovete e soprattutto quattro microfoni per la riduzione del rumore, quindi sono veramente incredibili quando viaggiate, leggerissime, vi dicevo, potete tenerle in testa ore e ore di seguito, ma soprattutto suonano bene, si caricano via USB-C e ultimo e non per ultimo sono degli oggetti veramente strepitosi. Detto questo, signori, spero che il video vi sia piaciuto, qui sotto in descrizione trovate tutti i link e le cose varie. Ci vediamo. So, pro, 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 pro.